verticale, attenzione, palla di Paunessa riconquistata di testa attacca la Vigor, palla difficile calcio d'angolo calcio d'angolo per la Vigor Lomezia attenzione, vediamo se riusciamo ad arrivare al pareggio con questo cross in aria attenzione, palla che esce allontanata poi dall'autore del secondo gol del numero 9 della Scafatese, palla corta al numero 7, può incertinare finta un tiro si allarga troppo, palla no, palla troppo sotto palla troppo sotto per Paunessa non riesce a deviarla sotto porta, ma la palla ce l'aveva troppo addosso, era più avanti con il corpo e la palla era proprio sotto mancata la deviazione decisiva di Paunessa